Arruolata nuovamente la Vespa Samurai nella lotta biologica alla cimice asiatica, pericoloso nemico degli alberi da frutto, rinvenuto in presenze significative anche su olivi e cereali. Nei frutteti della Val di Chiana, anche i tecnici di Cia e Arezzo hanno così partecipato con i responsabili del progetto della Regione Toscana a un nuovo lancio. Anche quest'anno, infatti, con l'autorizzazione ministeriale, la Regione ha ripreso, trovando la nostra piena collaborazione, la bioguerra contro il parassita che ha causato centinaia di milioni di euro di danni al settore agricolo, spiega il direttore Massimiliano Dindalini. La Vespa Samurai è grande meno di un millimetro, non è pericolosa per l'uomo in quanto si nutre di polline nettare ed è in grado di parassitare sino al 75% delle uova di cimice asiatica. I risultati ottenuti nella nostra area e in tutta la Regione sono incoraggianti. La lotta, pur non essendo risolutiva in tempi brevi, è una soluzione compatibile con l'ambiente e consente di continuare ad offrire prodotti sani e certificati al consumatore e agli agricoltori che continuano a produrre. L'impiego dell'antagonista della cimice asiatica dovrebbe portare, infatti, ad un contenimento entro a livelli più sopportabili delle popolazioni di parassiti. Il suo utilizzo, inoltre, contribuisce ad aumentare l'efficacia di altri metodi di difesa disponibili, riducendo così, conclude Dindalini, l'impiego degli insetticidi.